Ok, la partenza per quanto riguarda le categorie G1 e G2, io vorrei ringraziare per la presenza Federico Lanzi, Cannizzaro, Luisiano e Angelo Cassagrande, direttamente dalla Cionciaria dal Basso Lazio, sicché complimenti ragazzi e via! 5 minuti! 5 minuti! 5 minuti! 5 minuti! Al passaggio per la G1 e G2 ci rischiano ancora che c'è Federico, Conforti, Lanni, Lavecchia, Lanzi e Pinelli sempre davanti con 2 minuti e 30 nuovamente la fuga sempre De Battistrata, Federico, Conforti, Lanni, Lavecchia, Lanzi e Pinelli, Pinelli la scorta tecnica che ci dovrebbe già subito un terzetto, un terzetto che sta uscendo, uscendo e vediamo di chi si può trattare attenzione un terzetto si sta uscendo, quanto è il vantaggio, quanto è il vantaggio? vediamo Signorini e poi con i dorsali 20 e 22 anche la laziale, chi era laziale? Suggeritimi! e ancora il gruppo, sta arrivando il gruppo, sta arrivando ora nuovamente il gruppo, siamo già sui 2 minuti di vantaggio per Federico, Conforti, Lanni, Lavecchia, Lanzi e Pinelli ecco la macchina di corsa che ci apre, che ci apre proprio la pista per le categorie G1 e G2 infatti infatti signori davanti è cambiata la situazione in terza la corsa attenzione, sono rientrati anche gli atleti, vediamo poi di chi si possa trattare altro appello in lontananza, altro gruppetto in lontananza si stanno muovendo, siamo all'ultimo giro, siamo all'ultimo giro c'è movimento davanti, altro appello che stringa di rientrare nel vivo della corsa movimento, movimento, oramai siamo nel vivo della corsa infatti è iniziata la selezione, oramai la velocità sta aumentando, attenzione altro atleta, leggermente, ha vantaggiato sempre dei colori dell'angolo del pilota il dolzale, 10, e Marzoni, Marzoni davanti a tirare le compagini del gruppo oramai la situazione, la situazione si fa nel vivo, è entrata nel vivo della corsa oramai ultimo giro, ultimo giro l'arrivo della G1 e G2, uomo solo al comando, vediamo di chi si tratta, di chi si tratta uomo solo al comando e laziale, e laziale con il dorsale 22 in seconda posizione l'ottimo Lincione, Lincione Toscano, Toscano e in terza posizione, un'altra volta, sempre il laziale, il laziale con il dorsale 23, primo e terzo e secondo Lincione, Lincione e ci rie la volata, la volata, la volata è lanciata, la volata vediamo per la quarta posizione assoluta, il dorsale 4, il dorsale numero 4 e ancora la vittoria, vi riconfermo di casa grande seconda posizione, Lincione e in terza l'anzi, attenzione, primi e terzi, i laziali, laziali, amici proprio di casa di Valter Mori proprio, primo e terzi, assoluti altro gruppetto, in arrivo, ricordo sempre la vittoria di casa grande in seconda posizione, troviamo Lincione e in terza posizione l'anzi sempre, primo e terzi, i tre, la volata del gruppo e in testa vediamo una notte al 2, degli innocenti, degli innocenti su Feschi Mori e qui tutto il resto del gruppo, che sta arrivando tutto scaglionato scaglionato e ancora, nuovamente, complimenti a casa grande casa grande, Lincione e Lanzi, che hanno fatto veramente la differenza sull'ultimo giro